Buongiorno a tutti, siamo qua alla Gaurà Emilia Romagna, abbiamo in cui i consiglieri la capogruppo Silvia Piccinini, Andrea Bertani, consigliere della Romagna e la nostra Raffaella Sensoli, ritornata dalla maternità, benvenuta, sempre per la Romagna. Affrontiamo qui oggi i temi dell'Emilia Romagna, io darei prima di tutto per un quadro generale la parola a Silvia. Intanto buongiorno a tutti, benvenuti a Italia 5 Stelle, bentornati a chi già c'era ieri. Oggi vi parleremo un po' delle battaglie che stiamo portando avanti insieme ai miei colleghi in Regione, partendo da un tema che affligge da sempre la nostra Regione, che è quello della pessima qualità dell'aria. Voi sapete che la pianura padana è una delle aree più inquinate al mondo, con tutte le conseguenze ovviamente negative in termini di salute e tra l'altro noi stiamo andando incontro a una multa europea da un milione di euro proprio per i continui sforamenti. Guardavo oggi il sito di Arpa, la provincia di Reggio Emilia negli ultimi nove giorni ha già sforato otto volte i limiti di PM10. Allora dalla politica ci si aspetterebbe delle risposte serie, organiche e forti. Invece che cosa abbiamo dovuto affrontare anche ultimamente in Regione? Dovete sapere che ad aprile 2017 la Regione ha emanato il cosiddetto piano aria, che è lo strumento che ci permette di fissare degli obiettivi di riduzione di questi inquinanti tramite delle azioni che ci permettono di raggiungere questi obiettivi. I bravi e competenti che governano la nostra Regione che cosa hanno pensato di fare? Hanno inserito tra le varie azioni quella del blocco dei diesel Euro 4. Peccato che poi finito il comunicato stampa e finita la passerella con l'ex ministro Galletti hanno preso provvedimento, l'hanno messo in un cassetto, l'hanno chiuso a chiave e se ne sono completamente dimenticati. Il piano aria, soprattutto il blocco dei diesel Euro 4, è entrato in vigore a ottobre di quest'anno. I cittadini non sapevano assolutamente niente. Quindi immaginatevi la reazione che questo ha potuto comportare. Ovviamente ci sono state le barricate, sia da parte dei sindaci che dai cittadini stessi che si sono visti bloccare i diesel dalla sera alla mattina e quindi siamo dovuti tornare in aula perché il PD non avendo fatto una campagna informativa seria e non avendo previsto, come chiedevamo noi, degli incentivi sull'elettrico, siamo dovuti tornare in aula perché loro hanno dovuto fare, accerchiati anche dai sindaci che non volevano applicare questa misura, siamo dovuti tornare in aula per fare un passo indietro e quindi dal blocco diesel Euro 4 abbiamo dovuto retrocedere ai diesel Euro 3. In un'assemblea assurda in cui ancora loro si facevano paladini dell'ambiente al che gli abbiamo dovuto ricordare e rassicurare gli elettori del Partito Democratico che il PD è sempre quello che vuole. Le grandi opere inutili in Emilia Romagna è un tema sentitissimo. A Bologna vogliono farci il passante di mezzo che porterà più di 10 milioni di veicoli all'anno sulle nostre strade. Sono sempre quelli che, sempre a Bologna, c'è il tema del nodo bolognese, del traffico costante, che è un problema che da 40 anni non è mai stato risolto e a Bologna non abbiamo ancora un servizio ferroviario metropolitano che possa dirsi tale. Sono sempre quelli che vogliono gli inceneritori, sono sempre quelli che bruciano le biomasse, sono sempre quelli che hanno comprato degli autobus ibridi nuovissimi e li hanno messi a disposizione di farinetti per fare il percorso Fico, stazione, autobus ibridi nuovi di 18 metri che viaggiano completamente vuoti. Allora, servirebbero dei provvedimenti, come dicevamo noi, organici e smetterla con la mobilità su gomma. Però un risultato ve lo voglio raccontare perché rispetto a questo tema è da inizio mandato che chiediamo l'istituzione del registro dei tumori regionale, che in questo momento è solo a livello volontaristico, c'è un'associazione che si chiama Airtum che racchiude i registri dei tumori di tutta Italia, però è sempre a livello volontaristico, non è mai stato istituzionalizzato. Noi da inizio mandato che battiamo su questo tema perché è fondamentale, soprattutto in una regione della nostra che soffre problemi della qualità dell'aria e degli inquinanti, lo IARC addirittura ci ha detto nel 2013 che gli inquinanti atmosferici sono cancerogeni certi per l'uomo, quindi questo è uno strumento fondamentale che ci permette sia di mettere in campo dei percorsi diagnostici terapeutici, sia, ed è importantissimo, fare anche prevenzione. Siamo riusciti a farlo inserire in legge. L'unica cosa è che oggi l'hanno inserito all'interno di un provvedimento quasi di nascosto che non c'entrava nulla perché era una legge che andava a unificare due ospedali nel Reggiano, quindi quasi vergognandosene, però il risultato che abbiamo ottenuto è che rivendichiamo con orgoglio e adesso gli stiamo addosso perché vogliamo che questo registro dei tumori diventi concreto. Prima di dare la parola a Andrea ricordo tra l'altro che il Movimento 5 Stelle è riuscito a far incardinare al Senato, è iniziata la discussione per approvare appunto un registro epidemiologico nazionale, quindi non solo più Emilia Romagna ma avremo a livello nazionale con specialmente un focus particolare per le aree più inquinate e ricordiamo che la pianura padana è la zona più inquinata d'Europa e tra le più inquinate al mondo, se non la più inquinata al mondo con un'aspettativa di vita, ahi noi, ridotta di tre anni per colpa dell'inquinamento. Adesso la parola Andrea che potrà dire qualcosa di più anche su questo tema e altri temi. Sì, in Italia muoiono 80.000 persone all'anno per l'inquinamento dovuto alle polveri sottili. Io invece intanto vi racconto quello che abbiamo fatto riguardo al gioco d'azzardo. In Regione Emilia Romagna c'era una norma del 2013 perché nel 2013 si cominciò già a notare l'aumento di giocatori patologici. La Regione Emilia Romagna come al solito fa le famose leggi bandierina, cioè dice noi abbiamo fatto questo, mette un bel titolo, poi in realtà quando vai a toccare la sostanza la sostanza non c'è. Questa legge del 2013 aveva un bel titolo che perché era la lotta al gioco d'azzardo patologico in realtà dentro essenzialmente c'era poco. C'era l'istituzione di un logo che premiava sì gli esercenti virtuosi che non installavano le macchinette per il gioco d'azzardo ma poi effettivamente c'era poco altro. Istituiva alcuni percorsi sperimentali per aiutare i giocatori patologici quindi tramite i servizi del CERT e poco altro. Quando nel 2015 siamo entrati in Regione ci siamo accorti subito che il problema stava esplodendo e stava esplodendo in maniera veramente forte. In Emilia Romagna i giocatori d'azzardo patologici sono veramente tanti e si gioca veramente tanto. Si parla di 1.500-2.000 euro a persona all'anno in tutta la Regione Emilia Romagna giocati, contando anche i bambini ovviamente, quindi è la famosa media del pollo. Quando ci siamo accorti di questo abbiamo proposto un disegno di legge organico. Dentro questo disegno di legge organico c'erano vari aspetti, soprattutto quello principale era quella dell'introduzione delle distanze dai luoghi sensibili. Alcune regioni già nel 2015 avevano introdotto qualcosa, alcuni comuni ci avevano provato, avevano provato a dire nel nostro comune ci sono troppe macchinette, ci sono troppe sale slot e avevano provato a fare delle ordinanze dicendo vicino alle scuole non vogliamo il gioco d'azzardo. Purtroppo però senza una normativa regionale questi sindaci con i ricorsi al TAR avevano perso e quindi non si riusciva ad implementare questa cosa. Nel nostro progetto di legge c'era l'introduzione delle distanze, c'era una restrizione anche per quanto riguarda la pubblicità e per quanto riguarda i ticket redemption. I ticket redemption sono quei giochi dove giocano i nostri figli nelle sale giochi e dove tu introduci il giottone, se sei fortunato giri la ruota ti escono tanti ticket, con i ticket prendi un premio. Praticamente è l'insegnamento fin da piccolo ai bambini di che cos'è il gioco d'azzardo. Anche su quello avevamo introdotto delle limitazioni importanti. Poi avevamo messo la formazione delle polizie locali perché quando vanno a fare anche loro i controlli nei locali sapessero cosa controllare e che cosa fermare. Ovviamente se il progetto di legge, anche se buono e targato Movimento 5 Stelle, non ha speranza. Infatti il nostro provvedimento già in commissione si stava bloccando. Però ovviamente il PD quando vede che c'è un tema che però la soluzione e la bandierina si può mettere sopra, ci ragiona. È anche vero che su questo tema ci sono tante sensibilità trasversali nei vari gruppi. Quindi abbiamo incontrato le sensibilità trasversali dei vari gruppi e finalmente è uscito un emendamento alla legge sulla legalità che ha introdotto anche in Regione Emilia Romagna le distanze dai luoghi sensibili. Bene, finalmente ce l'abbiamo fatta e questo è stato un grande risultato. Il problema però ovviamente è nell'applicazione. Dopo di cui qui di nuovo casca l'asino perché per fare la delibera applicativa la Regione ci ha messo un anno. Dentro la delibera applicativa si davano sei mesi per fare la mappatura. Però finalmente dall'anno scorso quasi tutti i comuni della Regione Emilia Romagna hanno mappato i luoghi sensibili. Quindi dicono qui c'è una scuola, qui c'è un luogo di culto, qui c'è un luogo sportivo. In un raggio, in realtà in un percorso pedonale di 500 metri qui non possono esserci. Sale slot VLT e nei bar andranno dismesse. Dopo questi sei mesi i comuni dovevano fare le ordinanze. Ecco purtroppo qui invece si sta bloccando. Quasi tutti i comuni hanno paura dei ricorsi e quindi stanno rallentando il passo. Quindi noi in questi giorni in Regione stiamo chiedendo alla Regione di muoversi perché questa legge va attuata. Perché abbiamo visto che è veramente drammatico l'impatto che ha il gioco d'azzardo. Perché non è che colpisce una persona, colpisce una famiglia. Quindi colpisce le reti sociali, colpisce un territorio e colpisce l'economia di quel territorio. Perché è dirotta dei soldi che finirebbero in un'economia sana e in un'economia malsana. Ecco noi sia a livello nazionale sia a livello regionale stiamo facendo di tutto per disintossicare lo Stato perché è una vera e propria droga di Stato. Perché lo Stato si è intossicato creando una partita di bilancio del quale non riesce più a fare meno. Ecco come Movimento stiamo cercando a livello regionale, a livello comunale e a livello nazionale di disintossicare i bilanci dello Stato da questa malattia. Sia del bilancio ma soprattutto delle persone. Grazie. Grazie a te. E ricordiamo che nel DL Dignità è stata vietata la pubblicità e dal prossimo primo luglio sicuramente non vedremo più nulla. Quello che vedete ancora i risidui sono i contratti in essere già firmati che al massimo potranno andare avanti per un anno. E' stata introdotta la tessera sanitaria per azzardare dal primo gennaio 2020 tutte le macchinette slot e VLT dovrà utilizzare la tessera sanitaria quindi i minori non riusciranno più a azzardare. Esatto. Il logo famoso no slot riguarda tutte le persone, riguarda tutti i negozi che lo vorranno fare a livello nazionale ed abbiamo ci sarà l'obbligo dal primo gennaio di quest'anno su tutti i tagliandini del Grattavinci dire meglio Grattaperdi che nuoce gravemente la salute. In più abbiamo aggiunto anche che è stato ricalcolato che le finte vincite del Grattavinci cioè io gioco 5 euro, ne vinco 2 o gioco 5 euro, ne vinco 5 non sono calcolate nelle probabilità di vincita perché il trucco loro ti facevano vinci, vinci quasi sempre in realtà erano una vincita a perdere e quindi abbiamo vietato questa forma di diffusione di messaggio falso da parte del gratta e perdi come lo chiamiamo noi. Questo grazie al DL Dignità a prima firma del nostro Luigi Di Maio. Ciao a tutti, io vi parlerò di uno dei primi risultati che siamo riusciti a raggiungere in Emilia Romagna con l'approvazione di una risoluzione cioè una risoluzione che riguarda i cosiddetti super ticket. Voi sapete che su ogni ricetta che il medico ci prescrive oltre al ticket per la prestazione sanitaria che appunto viene prescritta, viene inserita, noi paghiamo una quota fissa in più per ogni singola ricetta. Quella quota fissa è il cosiddetto super ticket. Questo super ticket ovviamente va a gravare sulle tasche del cittadino e rende tutt'oggi la sanità pubblica meno concorrenziale rispetto al privato. Cioè è ora una delle tante misure indirette per dirottare il cittadino dalla sanità pubblica alla sanità privata. Come ce ne siamo accorti in maniera concreta in Regione Emilia Romagna? Abbiamo fatto un accesso agli atti. Questo accesso agli atti ci diceva che noi in un biennio perdiamo all'incirca come introiti dai ticket per le prestazioni che riguardano esami e diagnostica circa 2 milioni e mezzo di euro all'anno. Cosa significa? Significa che gli esami e la diagnostica evidentemente nel pubblico non convengono. Conviene andare dal privato perché costa meno e perché ci sono anche meno liste d'attesa perché nonostante quello che ci viene propinato dalla giunta regionale dell'Emilia Romagna le liste d'attesa sono un problema serio e grande anche da noi. Il punto qual è stato? Il punto è stato che appunto questi 2 milioni e mezzo di euro all'anno venivano a mancare per quanto riguardava gli esami però non calavano le prestazioni specialistiche quindi non significa che l'Emilia Romagna aveva meno esami e meno diagnostica perché gli emiliano romagnoli grazie a Dio erano belli in salute ma semplicemente perché nessuno si rivolgeva al servizio pubblico o quasi nessuno. Bene in Regione siamo riusciti a far approvare una mozione, una risoluzione come si chiamano da noi perché appunto il super ticket venisse abolito. Quindi due anni fa già noi abbiamo diciamo così lanciato la sfida, la giunta dell'Emilia Romagna e ad oggi finalmente siamo riusciti ad ottenere questo risultato. Se finalmente l'applicheranno già dall'anno prossimo i super ticket verranno aboliti. Questa è una delle tante battaglie che stiamo portando avanti in Emilia Romagna per quanto riguarda il servizio sanitario perché come voi sapete c'è tutta una manovra subdola che viene attuata dalla giunta per dirottare il cittadino verso la sanità privata. Questo è un esempio. Il discorso delle liste d'attesa è un altro. Vengono citati dati statistici, vengono raccolti dati solo in base alla loro convenienza. Cioè vengono raccolti dati per tutte quelle prestazioni in Emilia Romagna che hanno dei buoni risultati. Poi vengono tralasciate tutte quelle prestazioni dove ad esempio ci sono liste di mesi e mesi per una sola visita. Il cittadino ad oggi cos'è portato a fare? È portato purtroppo verso la sanità privata perché come vi dicevo prima nel momento in cui io devo pagare un ticket che mi costa più della prestazione sanitaria dal privato e ho anche meno liste d'attesa, a questo punto purtroppo abbandono il servizio sanitario pubblico. Ma questo è un cane che si morde la coda perché meno il cittadino usa il servizio sanitario pubblico, meno naturalmente poi la sanità può mantenere quegli standard qualitativi che servono ai cittadini. Noi in ambito sanitario che come sapete occupa all'incirca un 80% del bilancio regionale, in Emilia Romagna si stanziano all'incirca 8 miliardi di euro tutti gli anni per la sanità regionale, ci siamo battuti fin dall'inizio tutti noi consiglieri, ognuno per il proprio ambito, Silvia si sta battendo per il registro tumori, abbiamo fatto tante altre battaglie contro le case della salute strutturate come le vogliono strutturare loro che ad oggi serve solo a mantenere e a alimentare le edilizie sanitarie, direi che di edilizie in Emilia Romagna non ne abbiamo poi tanto bisogno, ci siamo battuti su tanti campi, siamo riusciti anche ad ottenere qualche risultato, come ad esempio sulla riorganizzazione ospedaliera, siamo riusciti in alcuni casi, vedi nel mio territorio in provincia di Rimini, a mantenere l'ospedale di Nova Feltri aperto nonostante a inizio mandato volessero chiudere quel piccolo presidio all'interno dell'Appennino riminese. I super ticket sono una di quelle battaglie che è partita dalla regione Emilia Romagna, dove siamo riusciti a ottenere questo risultato e ad oggi speriamo di riuscire a portarlo a livello nazionale perché la sanità pubblica viene già pagata dalle tasse dei cittadini. Il concetto di compartecipazione alla spesa della sanità ci può anche stare naturalmente perché ci può stare ma bisogna far sì che la sanità resti accessibile a tutti i cittadini che non ci siano disparità di trattamento tra i cittadini e che soprattutto un cittadino non venga costretto a rivolgersi alla sanità privata perché è più conveniente rispetto alla sanità pubblica. La sanità pubblica è un diritto inserito in Costituzione e su questo non si può discutere. Grazie mille Raffaella. Ora ci sarà un intervento della nostra Alessandra Carbonaro, parlamentare di Bologna, del Movimento 5 Stelle e poi dopo per le domande, visto che siamo leggermente con i tempi, i nostri portavoce saranno a disposizione vostra qua a fianco al palco per chi vorrà fare domande ai nostri portavoce dell'Emilia Romagna. Lei ci spiegherà una situazione che abbiamo risolto molto importante. Sì, solo un attimo, qualche minuto di attenzione perché è un risultato molto importante. Alla Camera è stato votato un impegno nella Commissione Cultura e Lavoro Congiunta sulla reinternalizzazione dei servizi di pulizia nelle scuole che è un tema molto caro, soprattutto l'Emilia Romagna, perché è notizia di poco tempo fa che è stato rinviato a giudizio il presidente di Banu Tenkop. Cosa è successo? Con l'appalto di Consip di 1,6 miliardi di euro era stato lui rinviato a giudizio per Turbativa Dasta. Noi siamo riusciti con questo impegno al governo già presente nel DEF a lavorare per reinternalizzare quei servizi di pulizia che in questi anni, essendo stati esternalizzati, avevano prodotto non solo quel rapporto che purtroppo in Emilia Romagna conosciamo bene delle cooperative e di come molte volte lavorano, ma soprattutto aveva prodotto una grandissima inefficienza. Con questo impegno si cambia rotta, si cambia rotta. Il governo del cambiamento l'avevamo fatto nei cinque anni nella precedente legislatura di impegnarci per lavorare perché questi servizi venissero reinternalizzati. Già nel DEF è presente questo impegno del governo per iniziare a piano piano internalizzare i servizi di pulizia. Si parla di migliaia di lavoratori che lavoravano in condizioni indegne. Adesso riusciremo progressivamente a internalizzare questi servizi e credo che sia una grandissima vittoria per il movimento. Quindi questa è una piccola aggiunta al lavoro che è stato fatto da tutti i portavoci, anche grazie al lavoro dei portavoci regionali. Grazie mille, grazie a tutti per l'attenzione.